Per me non ci sono dubbi, l'idea è chiara, nel senso che se come pretendiamo la federazione di nana palacanestro ci riconosce il diritto a partecipare al cammino di serie B, noi siamo pronti, nel senso che messo il parquet chiederemo una deroga per quanto riguarda il numero di spettatori, sempre che si possa giocare in presenza, perché poi non sappiamo se ricomincia il numero di usi o quant'altro. Ma la sfida è un'altra, perché chiaramente a fuori io non penso che ci siano le condizioni per ampliare. Io in questi giorni ho parlato con Lello Pilati, ho parlato che poi è il padrone della gestistica Ischi insieme alla presidentessa Magadabundo senza urtare le suscettibilità e le competenze, come anche li siamo sentiti telefonicamente con Gianni Acono. Io ritengo che sia il tempo non degli stati generali, ma il momento in cui le persone si mettono insieme condividendo la stessa passione ed insieme cercare di fare le cose migliori. Io pensare ad un consorzio di società di basket sull'isola d'Ischia che insieme condividono la serie B e autonomamente gestiscono i propri movimenti giovanili e quanta, penso che sia qualcosa di fattibile anche se poi nel breve termine sarà necessario venire a giocare a Ischia per Dio, perché andiamo oltre le dinamiche campanilistiche. Spero che la nostra passione sia anche più forte delle piccole botteghe. Anche perché dicevo a lei, guarda, io vengo da un'esperienza esaltante in serie C Gold. Per me ritengo che l'ambizione di fare la serie B è forte. Dico, voglio sperare che sulla mia isola non vivano o si lasciano spazio alle frustrazioni di qualche uomo piccolo che vuole fare la serie C Silver. Le ambizioni devono essere sempre al top, altrimenti ovviamente rispettando che sia un percorso, un progetto che dia spazio, valore anche ai talenti che vivono sulla nostra isola e laddove non trovano spazio nella serie B, cercare anche di fare campionati che gratifichino in termini di divertimento. Però questo deve essere. Cioè lo sport non è, diciamo, l'occasione per fare soldi, per dare soddisfazione a qualche frustrato che viene magari anche da fuori e ci spinge a qualche... Cioè lo sport è un'altra cosa, insomma, nel rispetto dei principi di quello che è l'agonismo, la competizione, la crescita anche dei nostri ragazzi che sia frutto di un momento di incontro, di confronto e di crescita non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista sociale. Sembra che Collello deve trovare, perché già durante il Covid ci eravamo messaggiati, insomma, anche con Gianni, anche a rispetto dei progressi e episodi non ci siano grandi ostacoli. Io spero che in questo mese di luglio ci si riesca a sedere con tavolo con questo obiettivo. Io ritengo che lo sport possa dare un segnale forte alla nostra isola. Non è l'occasione, il momento per andare dalle aziende a chiedere le sponsorizzazioni. Questo io mi ripeto perché da imprenditori dico perché stanno vivendo ben altre incertezze e ben altri problemi. Se lo sport ha un momento di pazienza e di rispetto e anche perché poi cerchiamo i soldi per fare cosa? Per dare spazio ai mercenari che vengono dalla terraferma, agli allenatori del calcio per fare il mercato solito, delle pallaccanestre, i loro procuratori, i loro giocatori. Bisogna andare oltre. Stiamo vivendo un periodo che non sappiamo se è superato, dove è morta della gente, ci ha visti coinvolti in prima persona dal punto di vista sanitario e dal punto di vista economico. Quindi lo sport desti un segnale di sobrietà e di saper ritornare quei piedi per terra, ritornando almeno a Ischia di fare lo sport con passione e per passione. Spero che a cominciare dalla pallaccanestre anche le altre società sportive capiscano il momento ed insieme diamo un segnale forte a tutto il tessuto socio-economico della nostra isola. Grazie. 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 Grazie.